Un piccolo gesto per sensibilizzare tutti alla conoscenza del morbo di Crohn, malattia autoimmune che colpisce l'apparato intestinale per la quale non esiste ancora una cura definitiva. Domenica 19 maggio, nella giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali, pennello e vernice in mano, Amedeo ha pitturato di viola una panchina del parco di Porta Sant'Angelo a Perugia. In Italia sono 250.000 le persone affette dal morbo di Crohn. A Perugia ancora non viene applicato pienamente il protocollo diagnostico terapeutico assistenziale consigliato dal Ministero della Salute che vuole approcciare la malattia in un'ottica multidisciplinare. Sono ancora i pazienti infatti a dover dialogare con i vari specialisti. La panchina viola vuole essere un modo per far risaltare agli occhi il problema, per cercare di rendere più agevole possibile il percorso di cura delle persone malate, nella speranza di Amedeo e non solo di trovare una cura definitiva.